A 43 anni dalla strage della stazione di Bologna, le 85 vittime dell'attentato sono state commemorate con la messa in suffragio celebrata dal vicario generale per la sinodalità, Monsignor Stefano Ottani, nella chiesa di San Benedetto, che sorge a pochi passi da Bologna centrale. La ferita ancora aperta, la lucida consapevolezza della tentazione di negare la chiara attribuzione di responsabilità portano ad accogliere come fondamento di speranza, personale e sociale, l'ubbedienza a una nuova logica. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Così si è espresso Monsignor Ottani alla presenza di diversi membri dell'associazione tra i familiari delle vittime che, insieme a diverse autorità, civili e militari, poco prima avevano partecipato alla commemorazione in comune e al corteo che da Piazza Nettuno ha raggiunto Piazza Medaglie d'Oro, davanti alla stazione. La voce del sangue degli 85 nostri fratelli morti, dei 200 feriti, ha concluso il vicario generale, continua a gridare dal suolo ed è per ascoltarlo che oggi ci siamo riuniti.